E' becchi ragazzi, qui è Axel e siamo tornati su Stickman con 2 Allora io ho già fatto un video di Minecraft che non so proprio se veniva a caricare Allora, punto 1, è uscito un video di Stickman con 2 Oggi, però appunto, il 5 luglio Io ho già fatto pure un video di Minecraft che non so se lo caricherò Perché comunque sia, come ho già detto in quel video, io ho il wifi che non funziona Molto bene, cioè a volte funziona, a volte no Però ciò non mi impedisce di registrare Piuttosto mi impedisce di caricare i video Quindi non so per certo se Come posso dire, se usciranno video come prima Perché prima uscirono 1, 2 video al giorno Adesso stanno uscendo di meno E comunque sia, calcolate lo sforzo mio Che il pomeriggio se registro, registro 1 Al massimo 2 video E per portarmi avanti Registro alle 7 di mattina Mentre tutti gli altri dormono Quindi capite Capite delle volte Che registro pure a luna Se voi avete visto Allora io ho fatto Io feci un video su Clash of Clanser Con il titolo Vittoria alle 3 del mattino Questo non è una cosa per fare views Ho veramente Giocato nel mattino Cioè, per farvi capire E No, sì, me lo ricordo E direi che Ero stasso molto Se voglio mettere un bel video E citerei veramente molto Se l'ho andata a vedere Perché non ho fatto Le imbarzioni Il che mi era tristito Perché io mi sono veramente impegnata Per registrare le 3 del mattino Perché Erano le 3 grandi Non del pomeriggio Cioè, una bella differenza Nel pomeriggio Ti senti riposato E il mattino no Perché potremmo stendere C'è andato a testo alle Alle giocche Ho sbagliato alle 3 droni No Io non ho venuto per niente Anzi, mi ero sbagliato pure proprio Perché mi senti pure faceva la pagina E sono andata a testo alle 3 Anzi, manco alle 3 3 a mezzo Perché mi sono andato a caricare di video Quindi E Sto giudendo che nessuno l'ha visto Mi ha rattristito Quindi andatelo a vedere Chi vede sto video Per favore Andate in giro a vedere quel video Adesso Spigatevi Se ho fatto il flash royale Che sui video Non lo so Perché A me A me il flash royale L'altro che non me lo aggiornavo L'ho disinstallato Quindi Ti salvataggi Mi sono andato perduti Perché mi fa risicare un botto Di Allora E adesso Non ne sono sicuro al 100% Perché Non ne sono sicuro al 100% Io adesso ti provo Distallerò Flash of Plays Dato che Non mi sta più entrando Sempre per colpa della vostra Perché Per questa seconda Non sto facendo video di Minecraft Stipendo 2 Perché sono l'unice Due giochi che ho Che vanno senza I wifi Per dirvi Cioè Io se registro qualcosa Registro i giochi che non vanno Perché Sarebbe che Che è un casino Cioè Se Non Quindi Non c'è Quindi non riesci Di installare Clash Royale Non dico niente Ma Dovrei Riuscire Logicamente Dovrei ricominciare Perché se ti stagli un gioco Io sono stata veramente fortunata In Clash of Clans Clans Mi fa riprendere i salvataggi Clash Royale No Cioè Almeno Devi chiedere a qualcuno Se Mi prendi i salvataggi Quindi Mi servirebbe L'aiuto di qualcuno Effettivamente Spero Che qualcuno Me lo faccia Per quanto Cioè Nel senso Se voi volete Proprio il mio Mondo personale Perché Che mi arrivi Sull'altro Sceglie dove Ho E effettivamente Clash of Clans E Clash Royale E funzionano Quindi Cioè Non posso fare i video Su quel cellulare Perché L'app con cui Io faccio i video Non funziona Su quell'altro cellulare Semplicemente Quindi Cioè Clash of Clans Vabbè Lì funziona Quindi Non c'è niente A preoccuparsi Clash Royale Però appunto Lì sono in Arena 8 Con carte Potenti Legendarie Un livello Decente Di pasta Cioè Per dir Per dir Però Se voi volete Quel mondo Cioè Quell'appunto Di vedere Ma di tutto Se funziona Clash Royale E soprattutto Se me lo installa Se me lo installa Assolutamente Ci faremo Quindi Vi chiedo Cosa preferite Se voi Lo installa Non vi Lo portare Non vi devo portare Se voi dite Che Allora Se vedo che Che stiamo Delle Due visualizzazioni In su Zero Una visualizzazione Inutile Che ve lo porto So che Solitamente Mi piace Però Se tu Giustamente Se tu non hai Tanti iscritti Che so Devi avere al massimo 10 iscritti 2-3 like Perché se Loro Che poi Che io Sacco Tra i miei due amici Lucas Che è aggiornato Sul canale Perché Vuole vederlo E Uno Solo Loro Scrive un like E metto un like Un po' Però se non gli va Non metto un cazzo E Scrive per forza Andrà a visualizzazioni Dipende Quante visualizzazioni Il Visualizzazioni Dovremmo andare a like Perché se Il titolo Non è bello Nessuno Guarda Questo è logico C'è 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 Volete Sì o no Clash Royale E Posso distruggere il titolo Vedete di fare Va bene Non salto Ok ragazzi Vi sto dicendo Per appunto Che ho passato Questo view qui A chiacchierare Mi spiace Che non vi è stato Di Come qui E' il video Dove Dove Vi spiegavo Un po' C'è Che è successo Ecco E' probabilmente Questo qui Sera solo L'introduzione Perché lo terminerò Prima di fare Il livello Perché ci vuole Visto Troppo tempo Sette minuti Per fare il provo Soltanto Perché mi sono fermato Lì A parlare C'è Cosa ci sono Sti cose Di Ma le hanno potenziate Io Non so che dare 10 HP Vedi Stai Non buttiti Perché l'altro Ha il 10% Più di HP Questo è 20 Però io Cotevo cercare Che la è Lo dico Sì Che forse Forse Cos'è uno dei livelli Più facile Adesso Non so Quale il posto Questo Non mi ricordo Allora C'è un bosco Uno scorpione Questo De so Certo Non mi ricordo Se il bosco Il bosco Perché Il bosco Sì In realtà Il mucilli Non ce ne deve essere Quale L'umicito Dove essere Uno scorpione E con l'impio avanti Provo A fine livello Controller Tutto Vabbè Controlliamo qua Porto 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 Sulla Porto Pp Recoveri Perché Cioè Se ti cura Più velocemente Mi fa solo Comodo Cioè Non mi fa solo Da voluto Diventa di più cazzotti Sulla Ma Da voluto Mi ricordo che ti voglio I bosco perchè ho usato un po' di oggetto di 4 livelli però c'è tutti i posti che ho avuto la spirata il mio petto solo che questo tipo c'era qualcuno cioè io allora non usavo più di una di una ricarica no? quando finiva la ricarica capitava veramente di rado quindi scioppavo io fino mi capitava veramente di rado in realtà dallo zoom no aspetta dallo slime dallo sigilo lì poi cioè capitava spesso il film il caricatore com'è che il film il caricatore? con il boss che avevo tipo uno sputo di vita io com'è che li battevo definitivamente tutta la vostra sputa dove svanivo che praticamente fa quel poco di danno e tipo li sciottavo e li uccidevo così e ma in realtà capitava spesso che gioco a questo gioco anche anche al di fuori di youtube perchè per appunto e non posso giocare solo su youtube perchè se sono fuori poi ci sono i giochi che vanno senza le file perchè ad esempio c'è 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 Perfetto, io direi che per questo video è tutto So come chiamare questo video Per appunto appena interretti questo video Spero che vi piaccia Condividete con i vostri video Io vi ringrazio della visione Qui da Axel è tutto, bella rega